buongiorno ragazze oggi faremo questa porta qua con le fragole e panna adesso comincio a farmi la crema pasticcera e poi monterò la panna a dopo adesso faccio la crema pasticcera e poi quando finirò finirò di fare la crema pasticcera e monterò la panna che è l'attualità come you come from outer space 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 and I we sprung out from the earth we laid down face to face to witness our rebirth and I'm not leaving while you're breathing I won't run away they say it won't last you'll move along but we're moving too fast I know they're wrong cause we are like invisible light in the dark and there's an endless road on the edge of the map so let's pack our hats in the blue laps that can go leaves are far ciao amiche come state spero bene penso dalla mia voce che sentirete io non sto ancora tanto bene comunque vi vorrei questo proporre questo video vecchio di un dolce che feci più di due anni fa sicuramente voi non sapete tutti i miei video non li avrete certamente guardati tutti però ve lo volevo proporre così perché mi mancate tantissimo mi manca tanto fare i video spero che prima o poi mi riprenderò al più presto adesso devo solamente fare la brava e stare buona comunque e qui mi vedete col bagnoncino perché era praticamente inverno quando feci questo video e ce l'avevo ancora e mi ha fatto come dire rivivere quei momenti quando io ho aperto il canale adesso ve lo voglio riproporre e spero che vi piaccia vi mando un grosso bacio mi mancate tanto e mi raccomando ragazze se non l'avete ancora fatto e vi va vi fa piacere dei contenuti che vi che vi mando che vi propongo e vi volete iscrivervi al canale iscrivetevi e niente io vi mando un grosso bacio e penso spero di rivederci il più presto possibile ciao ciao